foggia 15 agosto 2015 potrete dire io c'ero se ci sarete perché scatta l'operazione galluccio renzo arbore l'orchestra italiana dopo vent'anni grande concerto dell'orchestra italiana dedicata alla città di foggia ea tutti i simpatizzanti e i villeggianti del circondario che spero sia il più abbondante possibile mi raccomando 15 agosto 20 e 30 20 e 45 pronavo della villa comunale renzo arbore l'orchestra italiana foggia